che cos'è? è dell'albero rosso ah, ecco perché ti muovi così, per via del viaggio celeste già cosa fai? se vogliamo uccidere Washington, mi servirà la forza degli spiriti guida no, mia madre non voleva che compissi quel viaggio, troppo rischioso non abbiamo scelta ma rischierai la vita inutilmente anche con la forza del lupo, sono stato catturato tu non sai niente ogni viaggio ti dà la possibilità di incontrare uno spirito guida fermo ogni viaggio comporta anche il rischio di impazzire conosco il pericolo farò io il viaggio grazie a tutti 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 grazie a tutti